Omissione di soccorso e lesioni gravi sono questi reati di cui dovrà rispondere un 25enne italiano residente nel Novarese denunciato perché lo scorso venerdì ha investito un senegalese di 44 anni ad Ossona per poi scappare senza prestare soccorso. Le indagini sono state condotte dalla polizia locale di Ossona Casorezzo iniziata immediatamente dopo un investimento avvenuto davanti al maneggio di Via Nino Bixio dove il 44enne lavorava che a seguito dell'episodio è stato portato in ospedale in condizioni gravissime. Gli agenti della polizia locale hanno agito innanzitutto analizzando i frammenti del paraurti trovati sul luogo dell'impatto per poi analizzare i varchi delle strade che portano ad Ossona ed è così che sono arrivati ad individuare il veicolo un furgone Citroen che è risultato transitare sotto un varco nel comune di Parabiago. Il furgone è intestato ad una ditta novarese immediatamente raggiunta dai colleghi della polizia locale del comune dove assiede la società scoprendo che il veicolo veniva utilizzato da uno dei dipendenti. Invitato a presentarsi al comando con il veicolo le cui ammaccature combaciavano con la dinamica dell'incidente il 25enne è stato ritenuto irresponsabile dell'episodio. Non essendoci la flagranza di reato la polizia locale dunque ha denunciato il ragazzo. Invitato a presentarsi al comune di Parabiago.